quando gregiavo il costume e soprattutto la cuffia adesso sono in versione non so se siamo più minatore ma la verità che bisogna raccontare quello che succede realmente quindi la sicurezza prima di tutto diciamo la verità non si fanno così tuffi d'altronde non sono portato per i tuffi non riesco neanche a toccarmi la punta dei piedi però secondo me in questa piscina un po contro luce devo dire la verità vedremo veramente dei campionisti 9 9 e mezzo ma che dico 9 e mezzo 10 10 come il punteggio che vogliamo per l'entusiasmo abbiamo lanciato la sfida la prossima volta voglio vedere o l'acqua o le sedute o i trampolini insomma la piattaforma pronta io ci credo e secondo me ci credete anche voi